Buonasera, una vita da romanzo è quella che vi raccontiamo oggi. Io vi dico solo che lui è nato in una portineria povera di Torino, 15 metri quadrati condivisi con la famiglia e i nonni, tutti operai della Fiat. E in fabbrica ci è finito anche lui. Poi diventerà un uomo di Gianni Agnelli, diventerà uno dei dirigenti d'azienda più influenti e potenti d'Europa. La stampa l'ho anche definito il Marchionne degli anni 90. Lui contrattava con Enzo Ferrari, negoziava e ha negoziato con Gheddafi, Saddam Hussein e ha frequentato Windsor, pare c'entri un trattore. Poi magari ce lo faremo spiegare. Ma D-16 dice di aver sempre ragionato con la testa di un operaio. È un editore, è uno scrittore e ha scritto e pubblicato un libro anche sulla sua malattia. E allora è davvero un piacere dare il benvenuto al dottor Riccardo Ruggeri. Buonasera. Grazie molto. E benvenuto. Siamo il gioco del mondo. Lei il mondo lo ha girato in lungo e in largo. Però per venire nei nostri studi oggi ha fatto pochi chilometri. Pochi chilometri. Ci ha raggiunto da paradiso. Perché dopo aver avuto uffici New York, Chicago, Londra, alla fine ha preso casa in Ticino? Ho preso casa in Ticino perché avevo deciso allora... Io ho avuto quattro fasi della mia vita. L'ultima fase, che è iniziata nel 2007, poco prima della crisi, avevo preso la decisione che avrei fatto un'attività senza più essere pagato. Questo era lo snodo. Tutte le altre sono state pagate. Molto povero, molto poco nelle prime, bene nelle successive. Ma a quel punto avevo deciso di non essere più pagato. E di conseguenza mi sarei dedicato all'editoria, sapendo che è un business in totale e assoluta crisi. E di conseguenza il luogo più adatto per vedere il mondo da un'angolazione diversa da quella di tutti gli altri è la Svizzera. Era la Svizzera, esatto. Però c'è conflitto editore e autore. Lei è l'editore di se stesso. Sono a volte l'editore di me stesso, a volte vengo pubblicato. Ma ormai tendo sempre più ad essere l'editore di me stesso. Perché oggi, le assicuro, viviamo in un contesto dove, se uno non fa parte di certe sette, è molto difficile pubblicare. Ma poi, se lo può permettere, anche perché ha dato il nome alla sua casa editrice, Gran Torino, che è un nome mitico e leggendario, perché a noi ricorda ovviamente una serie televisiva con Stas Chiaccia, mi sembra che erano al volante proprio di una Gran Torino. Ma soprattutto il film. Clint Eastwood, ovviamente. Però Gran Torino... Libri. Sì, libri. Ma per me vuol dire Torino la squadra di calcio. Il Toro. Ma com'è possibile che un uomo di Gianni Agnelli, lei divideva un tavolo, eravate in cinque o sei, nella stanza dove venivano prese le decisioni, che poi si riverberavano in tutto il mondo, com'è possibile tifare Toro stando e sedendo a fianco di Gianni Agnelli, ovviamente presidente della Juventus? Essere del Toro a Torino è un fatto sociologico, non è un fatto sportivo. Tutti erano del Toro. La Juventus rappresentava l'elite e di conseguenza questo era un fatto ovvio. Io adesso le devo chiedere, perché lei conosce questo programma, mi ha detto che la domenica la passa guardando il gioco del mondo e mi fa veramente molto piacere. Lei sa che bisogna indossare una casacca. Non ho la bianco e nera, non ho quella granata del Toro. Che cosa sceglie il dottor Ruggeri fra il matto, la fortuna, l'eremita, la morte, l'imperatore e l'amore? Io mi sono preparato, scelgo il matto. Io avrei sperato quasi l'imperatore, perché nessuno fa questa scelta. L'imperatore è una persona autorevole e autoritaria, uno che ha quotato in borsa la New Holland con 32.000 impiegati. Pensavo che il polso dell'imperatore poteva sceglierlo in paccatezza. Invece no, ha scelto il matto. Perché questa scelta? Ho scelto il matto perché se lei nasce povero, credo che non abbia altra alternativa, se vuole crescere, di fare delle cose un pochino fuori delle regole. Quindi non dico delle mattane, ma di affrontare il mondo con delle chiavi di lettura diverse dal normale. Io, ad esempio, c'è una parola chiave della mia vita che la comprende tutta. È una parola che ho imparato negli anni Sessanta. Allora facevo l'operaio La Fiat, facevo un lavoro assolutamente stupido. Al Tornio? No, al Tornio mi hanno mandato via perché ero scadente. E quindi mi hanno messo in un ufficetto, pur essendo un'opera, mi hanno messo in un ufficetto a fare un lavoro assolutamente cretino. Questo lavoro assolutamente cretino mi permetteva di avere tanto tempo libero. e io lo dedicavo allo studio. E avevo scelto, e qui sono i casi della vita, avevo scelto, tra le tante cose che potevo scelgere, avevo scelto una dottrina che a quell'epoca era molto di moda, cioè la sociologia. Nella sociologia c'è una componente molto importante dell'organizzazione aziendale che io però non l'avevo scelta per quel motivo lì. L'avevo scelta in termini culturali. E nell'affrontare questo tema avevo trovato questa parola in controintuizione. Controintuizione, la parola che ha segnato la sua linea anche come dirigente. Anche oggi. Anche oggi. E cosa significa? Quando parliamo, parleremo del... Lei ha fatto un accenno al libro sul cancro. Quando parleremo del libro sul cancro è una controintuizione il mio atteggiamento. La controintuizione è un qualche cosa che è l'opposto di quello che fanno il 99% delle persone. Quindi le persone di buon senso, scelgono il male, quello che si dice il male minore. La controintuizione è il problema è talmente complesso, è talmente fuori dagli schemi. Io manco di un sacco di informazioni. L'unico modo per affrontarlo è farlo in modo controintuitivo. E quindi l'opposto di quello che... Ma come è riuscito, per esempio, usando la controintuizione a salvare questa grande fusione fra Ford e Fiat che poi da cui è nata la New Holland che sembrava destinata al fallimento? Ovviamente. Lei poi come manager si era anche posizionato e era conosciuto come un risanatore di aziende in crisi. Ho capito, però là c'erano decine di migliaia di impieghi che erano destinati al licenziamento, era una società destinata al fallimento. Siamo nel campo dei trattori, movimentazione terra, scavatori. Ecco, lei ha preso due, passi il termine, due società che erano in profonda crisi, quasi dei bidoni. Cioè, no, erano dei bidoni. Ed è riuscito... No, perché i due azionisti avevano pensato che mettendo insieme Agnelli e Ford mettendo insieme due bidoni si facesse... Si saltava fuori. E lì la contrattuzione qual è stata? La contrattuzione... Cioè, canonicamente cosa facevano i manager che non ha fatto lei per salvare... Allora, il discorso era... Allora, deve inquadrarla nell'epoca. L'epoca sono i primi anni 90. Il mondo è in uno stato di profonda crisi, soprattutto le aziende sono in crisi. che come vengono affrontati... È lì che nascono i CEO. Il mito dei CEO nasce in quell'epoca. Sono questi personaggi che gli americani chiamano Rambo Manager che quando arrivano immediatamente il titolo in borsa, ancora prima di aver fatto qualcosa, il titolo in borsa cresce. Perché licenziano selvaggiamente. No, selvaggiamente. Chiudono stabilimenti. Evidentemente il mondo sindacale di allora era un mondo dove i sindacati contavano molto di più. Dopo quell'epoca i sindacati sono andati in profondo degrado. E a quel punto facevano queste operazioni. Se andava bene erano Rambo Manager. Se andavano male loro andavano da un'altra parte. ma non erano tanti soldi li avevano già presi. Io invece faccio un'altra cosa. Io credo poi se vuole ne parliamo dopo. Ci sono due modi per fare management. Fare gli interessi dell'azionista che mi sembra una cosa assolutamente ovvia. Certo. O fare gli interessi degli stakeholder dove tra gli stakeholder negli stakeholder si intende non solo l'azionista ma il territorio la cultura gli operai i fornitori tutto il mondo che c'è intorno. Allora io che cosa faccio? Io sapevo che ero soprattutto piazzato in luoghi dove il potere sindacale era molto forte e quindi Inghilterra Belgio Stati Uniti toccare gli operai era un rischio. Non era così banale oltretutto non erano operai di aziende qualsiasi erano operai di aziende come la Fiat e come la Ford di grande livello e quindi era una cosa molto difficile questa. Io loro ho invertito il problema. Nei primi tre giorni avevo due quartier generali uno a Modena e uno a Lancaster negli Stati Uniti in Pennsylvania li ho chiusi dalla sera la mattina lì dentro c'era tutta l'intelligenza c'erano tutti i vertici il 99% dei dirigenti il 60% dei più importanti funzionari eccetera io li ho chiusi poi ovviamente mi sono seduto al tavolo con i sindacati e ho detto adesso parliamo degli operai ecco cosa vuol dire ragionare con controintunzione con la testa anche di un operaio purtroppo sono già andati dieci minuti noi non siamo neanche partiti ma lei è troppo interessante quello che ha da dire allora vogliamo partire con il dado col suo gioco del mondo anche se già siamo entrati in materia facendo andando in quella direzione 1-2 finisce su il mio diario allora lei un diario raccoglie delle pagine autobiografiche lei è un'autobiografia la scritta il titolo è una storia operaia mi sorprende perché in tuta blu comunque lei ha passato pochi anni in realtà ha passato più anni come dirigente ha passato degli anni però perché sempre questa attenzione all'operaio adesso già me l'ha fatto un po' capire però perché non ha chiamato una storia di dirigente beh perché in realtà io sono un operaio cioè ciascuno di noi è ciò in cui nasce poi il suo mondo può cambiare totalmente ma io sono nato in una famiglia profondamente unita d'altra parte in 15 metri quadrati se lei non è unito non può vivere ma come fisicamente logisticamente come potete condividere 15 metri quadrati il problema era che noi avevamo tre brandine militari che quando alla sera si andava a dormire mia mamma preparava le tre brandine per noi e i nonni dormivano nel letto questo era la cosa allora se lei vive in un mondo così in più di una famiglia straordinaria per una famiglia di ultrapoliticizzati comunisti comunisti nonno che pretendeva che lo chiamassi nonno Stalin democristiana di Don Sturzo la nonna oggi si direbbe baciapile il papà colto e quindi liberal socialista diciamo e la mamma anarchica di Carrara è certo Toscana di Carrara quindi in questi e loro andavano d'accordo andavano d'accordo perché c'era un leader mio padre quindi noi eravamo una famiglia rara che era contemporaneamente antifascista anticomunista perché il nonno era ai margini era tenuto ai margini e io sono diventato una pota ma come poi ha trovato la sua strada diciamo l'impulso per prendere quell'ascensore sociale che molti rivendicano ma alla fine sono veramente pochissimi quelli che riescono a riscattare una condizione sociale anche di povertà soprattutto se si entra magari in un contesto industriale all'epoca lei è un caso rarissimo assecondando quale impulso lei ha deciso di abbandonare il tornio abbiamo capito che non era bravissimo non è che l'abbia abbandonato non è che l'abbia abbandonato io ho passato vent'anni cioè lei ha detto sì questa portineria comunque c'era un mondo mi sembra povero ma di grandi valori però perché ha deciso comunque poi di tentare un'ascesa di lasciare io non avevo non avevo fretta io non è che volessi andare via dalla mia condizione operaia io volevo arricchire la mia cultura questa è la cosa profondamente diversa per cui quello che vivevo l'ordinaria amministrazione mi era indifferente perché io dovevo crescere e soprattutto avevo questa idea che più studiavo e più analizzavo problemi e mi sono scoperto che avevo una dote naturale la dote era fare i collegamenti io sono capace a fare i collegamenti tra argomenti assolutamente che poi mi portano alla controintuizione esatto perché è fare collegamenti che altri non sanno non sanno fare questo quindi poi si può uscire dalla povertà ma la povertà uscirà mai dal beh questo questo io non ho queste pretese io ho fatto un discorso allora lei dice come mai è riuscito ad arrivare sono riuscito perché mi sono interessato di una cosa che non interessava a nessuno sul lavoro ho cambiato in vent'anni venti posti di lavoro perché non mi voleva nessuno perché un rompiballe andavo a chiedergli detto così sì non ero non ero uno perché i lavori li facevo troppo in fretta e quindi non ero amato né dai colleghi né dai capi che erano sostanzialmente un'azienda fortemente burocratica centralizzata e di conseguenza cambiando così tanto i lavori io ne ho imparati tantissimi quando sono diventato CEO a me non potevano raccontare storie perché io tutti i lavori che mi dico li avevo fatti e partendo poi proprio dalla base nessuno poteva raccontare le storie voglio dire ha sempre saputo muoversi essendomi mosso in questa poi c'è il fenomeno della fortuna cioè la Fiat nell'inizio anni 70 prende Umberto Agnelli che era la vera mente della Fiat prende tre consulenti americani per ristrutturare la Fiat questi tre consulenti scelgono chiedono di avere delle interfacce parola che oggi è comune ma che allora nessuno capiva cosa volesse dire e la struttura che non voleva essere modificata che cosa fa? gli dà semplicemente i più scadenti o quelli di cui si vuole togliere e hanno dato me la fortuna rispetto agli altri due c'era un livello di gradi imparagonabili perché gli altri erano importanti ma culturalmente e questi parlano a Daniele dicendogli ma c'è un genio io non ero un genio benissimo lasciamo il mio diario di una vita davvero ricca e sfaccettata questa volta facciamo un tre ed eccoci sulla casella proibita se lei ha seguito il gioco del mondo sa che è una casella delicata perché parla dei momenti di difficoltà io penso che la diagnosi di un tumore sia sicuramente un momento di difficoltà anche se lei come manager appunto si era profilato come un risanatore di aziende in difficoltà e il corpo per certi aspetti può essere paragonato a una bad company che va salvata però in questo caso il fallimento significa morte lei ha scritto un libro a riguardo e il titolo da editore ha scelto un titolo poco vendibile sul mercato perché di solito il male di una società è rilevato dalla reticenza con cui se ne parla quindi lei invece ha deciso no io uso le parole anzi lo chiamo carcinoma e non cancro cancro titolo cancro sottotitolo il cancro è una comunicazione di Dio allora che storia è questa dunque la storia del titolo come editore è totalmente sbagliato perché per due motivi non si mette il cancro e secondo me ultimamente è meglio usare poco Dio perché non è che sia tanto di moda per quanto riguarda invece il cancro questo è stato veramente un colpo che mi ha spiazzato evidentemente nella mia famiglia a cui io faccio sempre riferimento mai nessuno aveva avuto il cancro eravamo tutti morti per cardiocircolatorio e io ero tranquillo sperando che fosse un infarto se doveva avvenire quando vengo a sapere di questo di questo cancro di questo carcinoma oltretutto molto molto grave cioè ai livelli massimi ha colpito la prostata sì quindi aveva un indice 4-5 molto alto che è il 5 è il massimo quindi gravissimo che cosa faccio io? Entro in uno stato di crisi profonda in una crisi profonda perché aspettavo un'altra cosa questo mi ha totalmente spiazzato e di conseguenza prendo dopo 5-6 giorni drammatici prendo a livello psicologico io non avevo nessun dolore prendo la decisione di ovviamente ne parlo con alcuni amici questi amici quelli svizzeri mi parlano di Zurigo i nomi mi prendono gli appuntamenti a New York a Londra nelle cliniche più prestigiosi io decido invece di andare a Torino in un in un ospedale pubblico ovviamente da privato perché perché ha deciso di andare lei che poteva e ovviamente a livello anche finanziario mi baso su dei principi uno dei principi è io voglio avere a che fare solo con persone per bene finché è possibile evidentemente i due miei amici che lavoravano alle molinette di Torino erano due persone per bene ma io non sapevo nulla se loro erano esperti di carcinoma alla prostata o no certo uno era primario e quindi era esperto ma e quindi sposto il problema loro e io lo metto per scritto dico da questo momento io non mi interesso del carcinoma lo delego a voi fate ciò che volete chiedetemi qualsiasi cosa e io da buon operaio la faccio non vi chiedo nulla non voglio sapere nulla e però mettiamoci d'accordo sui ruoli riferendomi a un passaggio dell'idiota di Dostoievski nella vita c'è la vita e lo stile di vita io dico la vita è vostra ve la ve la affido lo stile di vita è mio certo perché io voglio continuare a avere e quindi non andrò mai non proponetemi di andare a fare il turismo oncologico vai a sentire uno vai a sentire l'altro no quello che fate voi per me va bene loro decidono di non operarmi e io l'accetto io l'accetto perché erano le parti e non voglio sapere perché l'hanno fatto certo che era erano solo due le opzioni o perché ero vecchio o perché ero speciato fanno queste scelte e io decido di scrivere un libro perché scrivere un libro per me ha un grande significato perché ha un significato di riversare il mio problema sulla carta e che mi permette di fare delle riflessioni e mi sono dato un obiettivo che era fattibile perché sono un editore e cioè all'ultima alla 35esima seduta di radioterapia che quindi alla fine il libro è uscito e pochi giorni dopo è stato presentato al circolo dei lettori di Torino perché Dio perché è una comunicazione di Dio comunicazione di Dio perché era un avvertimento io non l'ho preso come una cosa che ero che ero spacciato io l'ho preso nel modo con cui l'ho preso mi ha dato una comunicazione ma non era dice guarda che temore e infatti io per ora ci sono va bene la casella proibita ecco e andiamo sul lavoro ebbè ma il lavoro la perseguita è la mia vita è la sua vita ma ci vuole ci sarebbe una cosa interessante sul lavoro le ho citato che ci sono quattro fasi della mia vita la prima è quella che sappiamo fino a 40 anni la seconda è il successo che si conclude nei primi anni 90 quando vengo licenziato dopo il grande successo di New Holland quotata in borsa Wall Street e partiti con 100 milioni di dollari di capitale e quotata 3.5 miliardi di dollari 35 volte 32 volte 3,2 miliardi di dollari 32 volte vengo licenziato studiata all'università tra l'altro studiata all'università mi hanno dato l'aura a Chicago dopo il gran successo viene licenziato dagli agnelli vengo licenziato dalla struttura che era l'avvocato e l'amministratore delegato che era Romitti c'erano i raggiunti limiti di età questo almeno era solo così in modo elegante burocratico ma era una decisione giusta io che sono freddo in queste decisioni era una decisione giusta la cosa che mi ha fatto molto piacere è stato Umberto Agnelli che mi ha detto sei stato licenziato per eccesso di successo qual è il complimento maggiore ed era giusta però ed io li ho seguiti mi hanno offerto Ciampi mi ha offerto le ferrovie dello Stato Draghi che allora era il direttore mi ha offerto Sviluppo Italia io ho richiutato tutto perché io consideravo chiuso quella fase della poi è andato a Parigi per esempio ovvero a lanciare il brand Ricomenz insomma dopo lei si è ributtato comunque quando avrebbe potuto voglio dire un po' vivacchiare lei ha rilanciato Startup vede vede come è andata è andata proprio giusta sì sono stato fortunato sì esattamente allora col lavoro col lavoro è stata la terza fase quindi ho fatto l'imprenditore ho fondato Startup una di queste Startup è diventata l'azienda di famiglia ma non per merito mio per merito di mia nuora che è la moglie del secondo figlio e mio figlio che è il suo collaboratore e di conseguenza questo e poi c'è la terza fase che è quella che le ho raccontato venuto in Svizzera ma a quel punto il lavoro era non più retribuito e quindi tutti i profitti eventuali del Gran Torino Libri vanno in beneficenza perché nello statuto c'è scritto che l'azionista cioè io posso fare gli aumenti di capitale ma non posso prendere i profitti tra l'altro i proventi delle vendite vanno anche a una coniugite cinesi Tami se non sbaglio per tanti anni per tanti anni sono andati a Tami con cui eravamo amici un'organizzazione umanitaria che si occupava di Cambogia di Cambogia se non sbaglio soprattutto delle donne stuprate tutto un problema legato alle donne su cui poi lui ha fatto anche delle cose molto molto importanti intanto il tempo sta passando io non vorrei che rimanesse in sospeso la questione del trattore e di Windsor perché io so che lei ha conosciuto adesso ha già messo sul tavolo dei nomi importanti però per esempio ha ricevuto un premio anche dalla regina Elisabetta e ha conosciuto Lady Diana se non sbaglio c'è di mezzo un trattore perché lei è sempre stato innamorato comunque professionalmente nelle sue aziende e ha avuto a che fare con i trattori con gli scavatori sì ma anche di altri io mi innamoro del prodotto io mi innamoro del fiat trattore è stato quello un po' diciamo il suo grande filone ma allora come c'è finito un trattore a Windsor dunque è finito in questo modo una persona molto vicina alla regina con cui io avevo a che fare ha suggerito che a Windsor dovevano comprare un trattore per il campo di Polo e di conseguenza io ho detto ma se vuole se volete ve lo regalo prendendolo da quelli che noi presentevamo alle fiere alle mostre che hanno tutta una loro vita e che non possono essere venduti come quindi gli ho regalato una cosa di seconda mano non è che sia forse di prima mano questa cosa in cambio diciamo in cambio di questa cosa ci ho avuto l'invito a partecipare al campionato di Polo che si teneva ogni sabato per otto sabati di seguito in primavera al castello di Windsor dove c'era il campo di Polo e le quattro squadre c'erano quattro squadre ovviamente tutte della nobiltà inglese una di queste era il capitano era Carlo vedi caso quella squadra vince quella di Carlo vince il campionato e io sono quello che gli consegno gli consegno la targa e quindi questa è stata l'occasione la cosa divertente di questo è quello che poi ho scritto e quindi in tempi non sospetti ho scritto su questa Royal Box dove ho conosciuto appunto da a dieci metri perché eravamo 50 persone seduti su queste panche su questa tribuna e ho conosciuto sia Lady Diana sia Camilla che allora era ancora era l'ex certo e molti tutti a chiedermi qual era il mio giudizio io ho dato un giudizio ma sincero senza nessuna cosa io ho detto io non ho nessun dubbio è meglio Camilla se dovessi scegliere io perché Camilla mi aveva dato questa mi aveva fatto una grande impressione al di là bellezza certo l'altra era la perfezione patinata però era una donna vera questo io che sono un valutatore per fare il mestiere che ho fatto sono un valutatore di persone questa aveva lo sguardo l'occhio l'atteggiamento il linguaggio del corpo di una donna vera e anche questa è una controintuizione però adesso sono soddisfatto perché la regina ha preso la decisione che diventerà regina esattamente esattamente dottor Ruggeri noi stiamo arrivando alla conclusione di questo incontro bellissimo a me sarebbe piaciuto parlare di tantissime altre cose dei personaggi politici anche che ha incontrato abbiamo parlato di Gheddafi Saddam Hussein ha scelto i peggiori ho scelto proprio i peggiori ma proprio lì mi sarebbe piaciuto andare a parare per certi aspetti però oggi è la giornata internazionale la giornata mondiale della felicità cos'è la felicità per lei lei che ha conosciuto tutto ma io devo devo dire che per me la felicità è una cosa connaturata a me io sono una persona felice sono stato sempre felice indipendentemente dalla posizione e sono molto felice anche oggi tutto qua grazie mille Riccardo Ruggeri per essere stato in nostra compagnia grazie anche a voi ci rivediamo come sempre fra una settimana e lo sapete dopo il quotidiano e prima del telegiornale con un'altra storia con un altro gioco del mondo buona serata grazie a tutti grazie a tutti